black day manifestazione di profughi a caltanissetta per dire no al terrorismo e alla violenza in genere titolo italiano di box al pala canizzaro sabato prossimo intanto gli impianti sportivi sono al buio e per terra pasti lasciati dai profughi accampati banca del nisseno e negozi del centro storico mostra di presepin ceramica di calta girone tentato furto di vini e liquori in un deposito lungo la strada statale 640 indaga la polizia abbuffate per le feste il nutrizionista ci dà consigli sul pane da mettere in tavola tra poco benvenuti ad una nuova edizione di tcs news apriamo il nostro telegiornale parlando della manifestazione di questa mattina il black day manifestazione di profughi del centro di pian del lago per dire no al terrorismo e alla violenza sentiamo black day la manifestazione degli immigrati ospiti del centro di pian del lago quali sono i motivi di questa manifestazione i motivi fondamentalmente nasce questa manifestazione dal desiderio dei nostri ospiti di pian del lago perché vogliono manifestare a tutta la cittadinanza di calta nissetta che non sono dei terroristi sono delle persone come noi di diverse nazionalità che sono qui per un futuro migliore altrimenti nessuno lascerebbe le proprie origini propri paesi insomma e vogliono dare testimonianza pubblica per far comprendere che sono solidali che affinché non accadano più fatti di stupro come sappiamo negli ultimi giorni sono accaduti qua non fanno non hanno assolutamente intenzione di compiere atti di terrorismo e questo è oggi il messaggio che vogliono far passare sono sostenuti ampiamente da noi da tutte le istituzioni e anche religiose e infatti poi in piazza si concluderà con un momento di preghiera interreligiosa nei in alcuni cartelli c'è scritto che l'islam non è con il terrorismo assolutamente no lo dicono anche che i passi del corano nella preghiera che poi verrà fatta non c'è atti di violenza incita anzi l'uomo alla pace e a volersi bene e quindi non ha. L'idea della manifestazione è fatta anche per rassicurare la cittadinanza sulla loro presenza è partita da loro o da voi della cooperativa? Innanzitutto è partita da loro e ci trovano concordi nel sostenerli anche perché è un centro governativo dove vengono delle regole si adeguano ampiamente e quindi quando si parla spesso dell'immigrazione anche notturna che vagano per la città non sono quelli di Pian del Lago. Perché loro hanno degli orari? Esattamente. Ricordiamoli. Sì sì loro hanno il rientro serale entro le 22 massimo 22 e 30 se per caso qualcuno non dovesse rientrare viene segnalato immediatamente alla polizia. Perché oggi avete deciso di manifestare? Perché vogliamo pace nel mondo non siamo siamo musulmani e i musulmani non sono terroristi come pensiamo io che i terroristi non hanno le religioni ma però le religioni non permettono per terroristi per criminali. Tu perché sei qui? Perché vogliamo pace nel mondo. No no perché sei qui a Caltanissetta in Italia cosa ti è accaduto? Da dove vieni? Sono dal Pakistan dal Kashmir. E perché sei andato via dalla tua terra diciamo? Perché c'è problemi anche nel mio paese così siamo arrivati qui. E voi volete la pace? l'Islam non è per il terrorismo avete scritto in un cartello? Ha ragione l'Islam non è per il terrorismo. Islam non è da permetto per terroristi per criminali. Volete dire la città di Caltanissetta state tranquilli noi vogliamo solo stare in pace tutti qui? Sì ha ragione ma però siamo solo e vogliamo pace nel mondo. sabato al palacanizzaro di Caltanissetta si terrà il titolo italiano di box. L'evento verrà ripreso anche da Rai Sport. Intanto gli impianti sportivi a Caltanissetta sono al buio per un blackout per bollette non pagate e per terra al palacanizzaro i pasti degli extracomunitari che gettano in continuazione anche integri. In più ci sono sempre immigrati accampati che cucinano. Bollette non pagate e blackout negli impianti sportivi di Pian del Lago a Caltanissetta. Da aggiungere inoltre che sabato 19 dicembre al palacanizzaro si svolgerà il titolo italiano di box valido per i supermedi. Evento trasmesso da Rai Sport e ancora l'impianto è al buio. Questa mattina gli operai del comune erano al lavoro per togliere le erbacce ma i pasti molti ancora integri lasciati sparsi per terra dai profughi accampati nell'esterno del palazzetto sono una marea e ancora ci sono immigrati accampati. Per quanto riguarda la luce la denuncia delle strutture sportive senza corrente elettrica arriva dalla società Alba Verde che nei giorni scorsi aveva lamentato il rischio del crollo di un controsoffitto del palacanizzaro dove stava per disputarsi una gara di volley infatti lunedì 13 dicembre la gara di pallavolo femminile under 16 tra canguro e Alba Verde non si è disputata in quanto un pannello del controsoffitto interno proprio in corrispondenza della parte centrale del campo di gioco è a rischio crollo con grave pregiudizio per l'incolumità degli atleti. Adesso la denuncia del presidente della società sportiva Fabrizio Montagnino che in una nota afferma dopo che hanno messo una pezza al controsoffitto pericolante mercoledì abbiamo preso atto dell'ennesima perla gestionale di un'amministrazione sempre più allo sbando. Entrati nell'impianto per i programmati allenamenti con ragazzine dai 12 ai 15 anni abbiamo constatato senza stupore visto che le sorprese sono all'ordine del giorno che non vi era erogazione di energia elettrica. Il presidente dell'Alba Verde inoltre spiega impianto al buio quindi insieme al vicino Tomaselli in quanto il contatore è unico perché probabilmente la bolletta non è stata pagata al punto che l'Enel ha interrotto l'erogazione. I soliti bene informati ci dicono che al comune ritenevano di avere risolto il problema evidentemente così non è stato e naturalmente nessuno si è preoccupato di avvertire le società che come da calendario settimanale dovevano usufruire dell'impianto. Durissime le parole di Montagnino contro l'amministrazione il ruvolo. Il sindaco conclamando la sua incapacità a gestire la cosa pubblica scriverà al prefetto per chiedere aiuto come ha fatto in questi giorni per invocare intercessione con la CMC per i continui ritardi sul completamento della bretella della strada statale 640 e le relative opere di compensazione. Sicuramente vista l'ormai conclamata incapacità di garantire la gestione degli impianti e dei servizi il passaggio ai privati diventa assolutamente indispensabile se non si vuole dare un ultimo definitivo colpo all'ormai morente movimento sportivo nisseno. Su iniziativa della banca del nisseno nei negozi del centro storico ma anche nei locali della stessa banca è possibile ammirare una mostra di presepi in ceramica di Caltagirone. Vediamo. Dall'8 dicembre al 6 gennaio mostra diffusa di presepi in ceramica di Caltagirone nei negozi del centro storico e anche nella banca del nisseno. infatti questa iniziativa è proprio della banca avete fatto arrivare questi presepi in città sono presepi privati di famiglie presepi comunque molto pregiati. Sì fanno parte di una collezione privata è la collezione del dottor Francesco Iudica di Caltagirone sono dei presepi particolarmente pregiati perché alcuni addirittura sono dell'ottocento dei primi del novecento quindi sono vere e proprie opere d'arte molto molto belle molto pregiate realizzati in ceramica in terracotta. Abbiamo organizzato questa iniziativa presepi in vetrina che vede un'esposizione all'interno della nostra banca di una ventina di questi presepi e poi un'altra quarantina invece sono esposti una per ognuna delle vetrine del centro storico di Caltanissetta. C'è stato in questo il gradimento dei commercianti del centro storico voi sapete che la banca del nisseno banca del territorio si è impegnata con l'amministrazione comunale con i commercianti a dare un contributo al rilancio del centro storico è uno spazio urbano a noi particolarmente caro perché siamo anche insediati in questo spazio abbiamo qui qui la sede e a lei abbiamo voluto organizzare questa iniziativa che ha duplice diciamo forse anche più finalità intanto diamo un messaggio in un momento anche di attacco alla ai simboli della cristianità del cattolicesimo nel mondo diamo un messaggio cristiano e cattolicesimo quindi il presepe è un messaggio particolarmente cristiano specificatamente diciamo cristiano quindi natalizio ma è anche un'occasione diciamo di incentivazione dal punto di vista economico perché diamo anche motivo un motivo in più quando meno per alle persone per venire al centro storico a viverlo a visitando anche questi presepi guardando queste vetrine e quindi vi invitiamo tutti a visitarli a vederli alcuni vi dicevo sono i quali possiamo anche vedere ecco questo per esempio è un bellissimo presepe titolato lucis lagitor è un presepe dell'85 in terracotta mentre qua vediamo un Gianfranco Ridolfo quasi è del 98 una terracotta patinate sassi molto caratteristico non è molto antico nel tempo mentre ne abbiamo qua uno ancora più antico questo è del 65 Giacomo Rantazzo miserere nostri domine è titolato è una terracotta patinata quindi con una patina evidentemente di colore di vernice di vernice sopra se ci spostiamo da questa parte ecco abbiamo anche qua una terracotta qua invece abbiamo una ceramica dipinta ecco alcuni sono anche vi dicevo particolarmente belli altri sono particolarmente pregiati i pezzi sono stati chiaramente assicurati però insomma chiediamo a tutti ovviamente di trattarli con la massima cura perché sono pezzi assolutamente esclusivi facendo parte di questa di questa collezione nei negozi ovviamente i presepi si possono ammirare negli orari di apertura e questi che sono qui nella banca che ora si saranno visitabili dall'8 al 6 gennaio quindi fino al 6 gennaio negli orari di apertura della banca tutti i giorni dalle 9 diciamo alle alle 18 di pomeriggio sabato alla domenica ovviamente faremo delle aperture straordinarie fino alle 20 di sera tentato furto di vini e liquori in un deposito lungo la strada statale 640 indaga la polizia nella tarda serata di ieri 16 dicembre gli agenti della polizia di stato della sezione volanti di calta nissetta su richiesta pervenuta sul 113 sono intervenuti in contrada grotta d'acqua all'altezza dello svincolo sommatino delia della strada statale 640 in ausilio al personale della vigilanza privata di una ditta di san cataldo che commercia vini e liquori perché poco prima era scattato l'allarme anti intrusione in un loro deposito sul posto i poliziotti hanno constatato che ignoti approfittando del buio dopo aver praticato un buco nella rete metallica che delimita la proprietà si erano introdotti all'interno dell'area della ditta e una volta raggiunto il muro perimetrale esterno del capannone avevano praticato un buco nella parete del diametro di circa un metro nella parte esterna del capannone erano ammucchiate diverse casse di vino e liquore in attesa di essere caricate trasportate fuori dalla ditta ma il furto non è stato portato a termine per via dell'attivazione dell'allarme anti intrusione che ha messo in fuga i ladri da quanto riferito dai proprietari recatisi sul posto da un primo esame dal magazzino non sarebbe stato asportato nulla anche se gli stessi si sono riservati di fare un inventario della merce indagini in corso da parte della polizia abbuffate per le feste il nutrizionista ci dà consigli soprattutto sul pane da mettere in tavola siamo con il nutrizionista antonio sedita in vista delle feste si ci abbuffa si sa e quindi poi si possono avere problemi non solo di peso di sovrappeso ma anche di salute un alimento che non manca mai sulle tavole e il pane e per le feste se ne mangia pure di più cosa devono sapere le persone per quanto riguarda il pane allora per quanto il pane sia un alimento comune che si trova facilmente nelle case di tutti i giorni è importantissimo che sia un pane di qualità quindi quando parliamo di qualità del pane a che cosa dobbiamo fare riferimento prima di tutto al metodo di lievitazione metodo di lievitazione sicuramente eccezionale è quello creato dal lievito madre perché ha dei vantaggi rispetto al lievito di birra e il lievito madre ha dei vantaggi perché oltre ai lieviti presenti nel lievito di birra come il sacromices presenta anche dei batteri fermentanti che fanno acidosi lattica questi batteri sono della famiglia dei lactobacilli primis in assoluto ai lactobacillus casei questo lactobacillus casei è intanto uno dei batteri endemici del nostro intestino e poi fa sì che l'alimento stesso quindi questo pane si digerisca all'interno del nostro intestino tramite questi batteri facilitando molto di più così il transito intestinale e l'assimilazione dei nutrienti stessi del pane tra l'altro cosa cosa comporta questa maturazione del pane con i lactobacillus casei comporta anche una disgregazione dei minerali quindi una loro liberazione all'interno del nostro organismo è una maggiore assimilazione di questo questo per quanto riguarda il pane comune di tutti i giorni poi potremmo anche andare a ricercare dei pani un po' più complessi e molto salutari come per esempio un pane di grano farro pane di grano farro è uno dei primi pani addirittura il farro si utilizzava dal neolitico quindi pensate un po' i nostri antenati già erano dei cultori di questi cereali e pane farro indicatissimo per esempio per gli sportivi perché un maggiore rapporto proteico tra l'altro un indice glicemico molto più basso quindi molto indicato per attività sportive un altro grano non grano famosissimo è da utilizzare nelle nostre tavole sicuramente il grano saraceno il grano saraceno è un ottimo prodotto ma perché perché contiene due fondamentali nutrienti uno è l'inositolo che è responsabile del legame dell'insulina ai nostri recettori è un mediatore e questo fa sì che il nostro organismo sia più pronto al ricepimento dell'insulina e quindi a tutta la via biosintetica connessa ad esso come il sequestro del glucosio dal sangue altra proteina o altra proteina importantissima per quanto riguarda il grano saraceno è la rutina la rutina perché è così importante perché riesce a tonificare i vasi sanguigni quindi è indicatissima nei casi di ipertensione o di malattie cardiovascolari un altro alimento di cui potremmo parlare che adesso va di molto va molto di moda è il pane al carbone vegetale pane al carbone vegetale è una chicca ormai si trova sempre di più nei nostri panifici e perché è una chicca perché riesce a sequestrare un po' le tossine presenti nel nostro organismo a bisogna fare solamente un'attenzione perché i fitati di questo pane potrebbero disattivare alcuni farmaci quindi l'assunzione di questo pane deve essere correlata solamente ad alcuni momenti della giornata preferibilmente lontano dall'assunzione di altri farmaci avete sentito parlare di pane di carbone di pane a lievitazione naturale senza lievito di birra e di altri tipi di pane sentiamo quindi un fornaio di caltanissetta che ci spiega queste caratteristiche con le feste si sa si mangia parecchio e ovviamente nelle tavole degli italiani non manca il pane abbiamo già parlato con un nutrizionista che ci ha spiegato che ci sono però dei tipi di pane che non fanno male anzi aiutano in molti casi la salute ci troviamo in un forno di caltanissetta spieghiamo quali sono queste novità di pane e in che modo aiutano la salute dei cittadini allora trattiamo diversi tipi di pane particolari e questo per esempio è un pane che non ha lievito di birra quindi ha una lievitazione completamente naturale viene lavorato imbassato a mano e viene cotto in un forno a legna naturalmente con una tecnica di fornata un po particolare e non avendo il lievito di birra perché fa bene allora il lievito di birra in sé per sé diciamo che con delle quantità moderate non fa male è l'eccesso di lievito di birra che comunque porta dei problemi anche di lievitazione all'interno dello stomaco perché praticamente avendo una quantità grossa maggiore di lievito di birra all'interno del pane non facciamo altro che ingerire un cibo che comunque continua a lievitare anche dopo l'ingestione con la lievitazione naturale invece questo problema non c'è perché la lievitazione naturale non ha chimica all'interno e la lievitazione all'interno del corpo quindi una volta che l'abbiamo ingerito non continua e il pane quindi diventa più leggero quello che salta all'occhio è questo pane nero perché nero di che è fatto allora questo pane è fatto con i carboni attivi o il carbone vegetale ha delle proprietà disintossicanti oltre che riesce praticamente ad assorbire tutto quello che come il carbone attivo sappiamo o i gas che si vengono a formare all'interno dello stomaco e delle sostanze che potrebbero essere dannose all'interno dell'organismo quindi riesce ad assorbire le parti di colesterolo cattivo e favorisce invece la parte di colesterolo buono positivo e le altre due pagnotte di cosa sono fatte? Allora questo è farro e quello invece è un timilia timilia o tuminea come si vuole chiamare è un pane di grano praticamente biologico antico quindi sono dei grani che provengono da castelvetrano e sono antichissimi la produzione è molto antica viene coltivato ancora nelle vecchie maniere viene e viene reso biologico quindi senza pesticidi aggiuntivi e con gimi naturali viene macinato a pietra e poi noi facciamo questo genere di pane qui. Quindi questo tipo di pane aiuta la salute ma aiuta anche la linea? Allora molti sì altri no perché per esempio il timilia non è altro che un grano duro. Quali aiutano la linea? Allora la linea la possiamo trovare con il farro che è un pane molto dietetico che è questa pagnotta qui e riesce praticamente ad avere le caratteristiche giuste per poter seguire una dieta corretta anche per la linea delle donne. Comunque anche quello al carbone eliminando i gas fa sgonfiare la pancia? Sì abbiamo un'azione praticamente di sgonfiamento della parte addominale però diciamo sempre pane è sempre fatto con il grano duro quindi quello più dietetico di tutti è sempre consigliato nelle diete viene sempre consigliato il farro. Quindi per chi vuole abbuffarsi durante le feste di Natale mangiare anche del pane che non appesantisca troppo è un buon consiglio. E adesso per la rubrica salute governare costa anni di vita. Essere eletti alla guida di un paese e ricoprire una carica di responsabilità significa vivere in media 2,7 anni in meno ed essere esposto al 23 per cento in più di rischi di morire rispetto a chi arriva secondo. A rivelarlo è uno studio pubblicato su BMJ nel quale i ricercatori hanno confrontato 279 leader di 17 paesi e 261 candidati non eletti tra il 1722 e il 2015 calcolando il numero di anni che ciascun candidato ha vissuto dopo l'ultima elezione cui ha preso parte comparando il risultato con l'aspettativa di vita media di un candidato perdente della stessa età all'epoca della corsa elettorale. Capelli bianchi e rughe dopo pochi mesi di governo visi tesi e occhiaie profonde è quello che unisce chi viene eletto alla guida di un paese dopo qualche tempo stanchezza e stress diventano visibili. I risultati suggeriscono che lo stress del governare può accelerare la morte in modo rilevante osserva Anna Pumgina dell'Harvard Medical School e autore principale del lavoro. E anche per oggi abbiamo concluso vi lascio alla rubrica salute benessere che oggi vi parlerà da stress da weekend in famiglia. Grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima edizione. Altro che relax del fine settimana, tra preoccupazioni economiche e impegni dei figli, il weekend in famiglia diventa momento di stress. Lo rivela uno studio dell'Associazione Europea, disturbi da attacchi di panico. L'Associazione tiene sotto controllo le reazioni degli italiani rispetto alla difficile situazione politico-sociale economica. Gli esperti mostrano una fotografia amara della situazione ottenuta esaminando le risposte di 800 persone. Insomma, la famiglia da luogo di tranquillità oggi procura forte stress soprattutto nel fine settimana. Soffrono di stress da weekend in famiglia sia gli uomini che le donne, anche se i primi manifestano disturbi più evidenti. Ecco allora senso di soffocamento, stato di irritabilità elevato o apatie, insonnie. L'origine di questo stato va ricercato nella precarietà economica e lavorativa che moltissimi italiani stanno vivendo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.